Oscure iscrizioni, tavole ricoperte di incisioni, epitaffi tombali e tanti altri antichi reperti saranno i protagonisti della mostra. Gli etruschi maestri di scrittura in programma a Cortona, il Museo Archeologico, dal 12 marzo al 31 luglio. Un'esposizione organizzata in collaborazione con il Louvre e il sito archeologico Lattara, Museo Henri Pradè, Montpellier. Ed è la prima, dopo molto tempo, ad essere incentrata sul tema del linguaggio scritto utilizzato dalla civiltà dell'Italia centrale. È molto importante che occasioni come queste non vengano sprecate, nel senso che si costruiscono delle relazioni solide sia dal punto di vista scientifico sia poi dal punto di vista organizzativo e della valorizzazione con grandi e piccoli musei del mondo. La Toscana ha ancora molto da offrire, ci sono molte collaborazioni ancora da mettere in atto, speriamo di riuscirci. Il segreto è collaborare insieme, il segreto è fare in modo che il Comune di Cortona, l'Accademia Etrusca ma soprattutto il territorio tutto, a partire dagli istituti di credito fino alle risorse economiche del territorio, collaborino per la valorizzazione, per la promozione del territorio tutto.